Grazie, Fortunso è intelligente, mo ha messo un follow e già ha detto una risposta, Fortunso sei un genio A parte questo, in chat una persona intelligente che mi ha fatto stare tranquillo in quella live O forse era l'unico coglione No, questo era intelligente uno in chat, che ha detto, eh, per quale motivo scrivete questa cosa che volete fare incazzare Don Vito, volete spammare altri youtuber Quanti anni avete? 12 anni? Appena ho detto quella frase, giuro, lo volevo fare VIP però ovviamente ho già fatto VIP qualcuno Gli volevi fare una VIP?